È considerata una realtà di Roma e provincia della ginnastica ritmica. L'Aelana Gym di Cervetri chiude il 2018 con un bilancio positivo e conclude l'anno con il saggio di Natale. Sul tappeto 150 ginnasti dai 5 ai 16 anni hanno dato vita a una rappresentazione simpatica legata alle festività. Genitori e familiari ad assistere la palestra dell'Enrico Mattei Gremita in ogni ordine di posto. Siamo all'ottavo anno, 8 anni sono passati, ottavo Natale, una festa come tutti gli anni. Facciamo la favola Ischiacianoci, come sempre non è il nostro obiettivo però siamo molto felici di stare insieme e in qualche allenamento abbiamo preparato questo piccolo spettacolo. Tutti gli anni si ampia, tutti gli anni si vede, si sente questo ampliamento dei programmi e delle nostre riuscite. Che effetto fa a vedere tutte queste bambine, tutte queste ragazze che da voi sono state cresciute umanamente, culturalmente, sportivamente? Ma per noi sono come le nostre figlie, noi siamo i secondi genitori e venendo così loro molto soddisfatti, molto contenti, felici a noi ci cresce il cuore. Sì, giustamente, lavoriamo e ogni anno abbiamo più obiettivi e riusciamo, magari non molto velocemente, vincere però vinciamo. Cosa vorresti trovare sotto l'albero di Natale? Salute!